La prospettiva dell'azienda era di intraprendere un piano di crescita industriale, successivamente poi ci si è resi conto che attraverso un fondo europeo per lo sviluppo regionale avremmo potuto portare avanti progetti di efficientamento energetico e sostenibilità. Mi chiamo Elena Fazzi, ho 41 anni e lavoro in questa azienda da circa 20 anni. Da due anni a questa parte il gruppo mi ha dato la possibilità di guidare l'azienda insieme ad un collega e quindi di guidare lo stabilimento di Utamaki Flexible Italy. Utamaki è un gruppo finlandese leader nel settore dell'imballaggio flessibile. Nel 2016 abbiamo aderito all'iniziativa del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'intenzione di portare efficientamento energetico, migliorare i processi produttivi e utilizzare fonti rinnovabili. Come è iniziata la nostra avventura e l'approccio al POR? È stata una scelta e una iniziativa del precedente amministratore delegato. Successivamente ricevendo l'incarico abbiamo deciso di portare avanti questo progetto perché è ritenuto importante sia da parte nostra che da parte del gruppo. Grazie al Fondo Europeo portiamo a casa un'esperienza importante per quello che riguarda la credibilità e la visibilità del nostro plant a livello locale e regionale e a livello di gruppo. Lo sapevi che grazie al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale sono stati investiti 193 milioni di euro per l'efficienza energetica delle imprese e degli enti pubblici e l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili? Migliorare la qualità dell'ambiente porta vantaggi a tutta la comunità. Ora lo sai, l'Europa investe sul Piemonte, il Piemonte investe su di te.